Se vuoi sviluppare autostima devi fare alcune cose fondamentali. Quali sono le cose fondamentali che devi fare se vuoi sviluppare autostima, se vuoi avere, diciamo, la sicurezza di essere, diciamo, nel giusto? Allora, andare nella direzione giusta. La prima cosa è che devi evitare di vergognarti. Noi tutti possiamo sbagliare, possiamo fare delle cose che non vanno, ma vergognarsi è veramente nefasto, è veramente negativo. Bisogna cercare di superare, bypassare assolutamente la vergogna. Un'altra cosa che deve essere fatta, se vuoi avere autostima, è cercare di avere una postura aperta, una postura che ti possa dare spazio, perché la postura che noi abbiamo è veramente fondamentale. Se abbiamo una postura, diciamo, ingobbita, ricurva, tenderemo anche a vivere disistima. Cercare di eliminare le cattive abitudini, cattive abitudini alimentari, cattive abitudini, diciamo, di qualunque natura se siano, cerchiamo di eliminarle, perché anche la nostra fisica, la nostra fisiologia è collegata all'autostima. Dobbiamo cercare di evitare di essere, come dire, dobbiamo cercare la perfezione, ma evitare il perfezionismo narcisista, cioè pensare che, diciamo, se non siamo perfetti al 100% siamo sbagliati, perché anche questo nessuno è perfetto. Poi, un'altra cosa fondamentale che dobbiamo fare, anche nell'interazione con gli altri, è evitare di scusarsi eccessivamente, evitare di essere aggressivi, evitare di essere passivi, ma cercare di avere una comunicazione assertiva. E poi, evitare di alimentare le proprie paure. Le paure, noi viviamo in un mondo in cui le cose accadono, dobbiamo sapere gestire quando vengono, senza autoalimentarci di paure. Ecco, se farai queste cose, riuscirai a sviluppare autostima. Iscriviti al mio canale YouTube Massimo Terramasco, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi anche sulla pagina Instagram, su TikTok, e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, e abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento. Seguimi anche sul canale Crescita Personale, canale YouTube, felicità, benessere, amore e autostima. Ciao a tutti!